Ciao a tutti, ciao a tutti, un saluto a tutti. Allora il nostro caro vecchio indice di borsa, il Futsimib, sembra inarrestabile, sembra proprio non conoscere ostacoli, ma con un'attenta analisi, un'attenta fotografia su quelli che sono i titoli che lo compongono in gran parte, parliamo proprio di titoli assicurativi, finanziari, ma soprattutto titoli bancari, vediamo come da analisi tecnica grafica gran parte di essi sia ormai prossima a una fase di possibile consolidamento, trovando delle resistenze di prezzo e questo succede anche su alcuni titoli bancari europei e anche statunitensi e quindi ci sembra semplicemente saggio, prudente e di buonsenso al momento non acquistare titoli bancari sul nostro indice. Il trend rimane chiarissimamente e profondamente rialzista, quindi nessuna paura, ma attendiamo un ritraccio per avere occasioni di acquisto a prezzi sicuramente più convenienti. Quindi per ora banche no grazie. Appuntamento al prossimo episodio.